Eder Parisi ha rotto il silenzio in merito al suo rapporto con la figlia Jacqueline Luna di Giacomo La giovane è in dolce attesa del compagno ultimo. La showgirl Eder Parisi lo scorso sabato 7 settembre è stata ospite nello studio di verissimo, e ha finalmente rotto il silenzio in merito al suo rapporto con la figlia Jacqueline Luna di Giacomo La giovane è in dolce attesa per la prima volta del compagno ultimo, ma la madre finora non aveva proferito parola pubblicamente sulla sua gravidanza Eder Parisi, la verità sul rapporto con la figlia Jacqueline Da diverso tempo il mondo della cronaca rosa aspetta un commento di Eder Parisi sulle polemiche in merito al rapporto con la figlia Jacqueline Luna di Giacomo La 24enne ha annunciato alcuni mesi fa insieme al compagno ultimo hanno annunciato di aspettare un figlio, un maschietto, il cui nome non è stato ancora rivelato Sin dalla prima notizia della gravidanza, però, non c'è mai stato un commento della madre L'assenza delle parole della showgirl in questi mesi ha alimentato le voci in merito ai cattivi rapporti tra le due Poche ore fa, però, la Parisi ha pubblicato un messaggio abbastanza esplicito sul suo profilo Instagram per mettere a tacere i rumor Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato il gossip né mai lo alimenterò Giornali e tv lo usano come strumento di distrazione della gente Io lo trovo uguale alla pornografia. La showgirl ora vive in Cina insieme alla famiglia, ma negli ultimi giorni è stata in Italia Nonostante i fan sperassero che in un contatto tra lei e la figlia Jacqueline Luna di Giacomo, sembrerebbe che le due non si siano affatto viste Nel suo post su Instagram header, ha ribadito di non voler diffondere alcuna informazione in merito al suo rapporto Mi infastidisce anche quando riguarda gli altri perché mi disgusta l'idea che un personaggio pubblico debba far sapere i suoi fatti privati Voglio essere giudicata per il mio lavoro, per le mie idee, per le mie battaglie invece che per il mio privato Oggi molti personaggi del mondo dei social o dello spettacolo usano la propria vita privata per far parlare di sé Questo succede quando non si ha nulla da raccontare dal punto di vista artistico perché non si hanno una carriera e un talento da artista Io ho carriera e talento e non parlo dei miei fatti privati ad uso della pruderie e della morbosità di una società in cui farsi i cazzi propri non è più un valore Qualche ora fa, inoltre la figlia Jacqueline aveva pubblicato una foto insieme al padre Giovanni Di Giacomo con cui ha un rapporto completamente diverso da quello con la madre L'uomo la abbraccia e le stringe il pancione e in basso compare la scritta Nonno Nanni Grazie Grazie Grazie